A che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che ho dovuto chiudere? Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Ma ve lo dico chiaramente, sappiate che domani vi becco, domani! Non pensiate tra anni, domani! Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campesta, la scuola elementare, ma dove andate a correre? No, 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 no!